Torna anche quest'anno l'ormai tradizionale appuntamento con De Felice Meats Winemakers, giunto alla sua terza edizione. Convegno sull'enoturismo organizzato da Onav Catania con l'i.i.s De Felice Giuffrida Olivetti, che mira a sottolineare l'importanza del comparto nel mondo dell'occupazione e della formazione, rivolgendosi innanzitutto alle giovani generazioni, che avranno l'opportunità di incontrare direttamente i produttori, quest'anno confermati in almeno una ventina. L'incontro, infatti, anche per il 2024 ha presentato un ricco programma di interventi e relazioni di professionisti del settore e si è tenuto nell'aula magna dell'i.i.s De Felice Giuffrida Olivetti, a Catania. Il boom dell'enoturismo, carriere e opportunità per i giovani è stato il tema del convegno, moderato dal giornalista Antonio Iacona, e che ha visto gli interventi della dirigente scolastica dell'i.i.s. De Felice Giuffrida Olivetti Anna De Francesco, della professoressa Agata Matarazzo Di Marica Mannino direttrice strada del vino e dei sapori dell'Etna. In particolare, il focus del convegno è stato incentrato su formazione di risorse umane, turismo enologico ed esperienziale.